Si riparte di nuovo l'anno 2012-2013, ci troviamo alla Fitami in via Venezia, Ponte Cagnano-Faiano, ci saranno delle novità quest'anno. La prima novità è che è un corso particolare, non vi dico il nome qual è, però rendetevi conto che in 35 minuti si consumano circa dalle 800 alle 1000 kcal. Sono dei corsi che noi faremo la domenica, in un mese le facciamo due volte la domenica, è un corso particolare, si fa una volta a settimana, si consuma tantissime calorie, vi invito a venire a provare e poi usciremo su Facebook, vi diremo quando saranno i corsi, anche su In Giro per voi, Dinanile e Calamagna. Poi ci saranno la Zumba che è un prodotto che già conosciamo un po' tutti quanti perché è internazionale, lo faremo anche qui, ci saranno dei corsi di Functional Training, ci saranno dei corsi di Bosu, ci saranno dei corsi di Pilates, ci saranno dei corsi di Slide Disc. La cosa importante è che il primo corso di mattina, il martedì del gioverì, partirà alle 7.15 per i professionisti, ci sarà un altro corso al 10.30 a piedi nudi nel parco delle signore che quest'anno sono state molto forti con noi e ringraziamo anche Girk Cooper che è stata presente con noi. Ci saranno dei corsi alle ore 13, ci saranno dei corsi alle ore 21, ci saranno balli latinoamericani, può seguire la Zumba, ci sarà Fitbox, ci sarà Still Program con Antonio e con la Volpe, ci saranno altri corsi importanti che stiamo ancora vedendo gli orari perché c'è molta gente e qui non sappiamo come inserirli queste volte, forse saranno due volte a settimana, questo corso molto particolare sarà il Functional Training, ci sarà il Pitbull Training. La novità di quest'anno nella sala Bodybuilding ci saranno delle schede che non vi dico come sono ma vi invito a provarle e che sono delle schede non stop, le chiamiamo noi, sono delle schede che vi porteranno a lavorare contemporaneamente sulla sala, sugli attrezzi e sulle macchine cardio contemporaneamente. Si sarà e è assicurata una perdita di chilo calorie alle 1300 calorie, 40 minuti, quindi vi invito qui a provare qui alla Fit Time in via Venezia, Ponte Cagnano Faial. In questo momento vi saluto e vi aspetto tutti quanti qui da Osvaldo San Martino e tutto lo staff di Fit Time.